bentornati una nuova puntata di facciamo finta che per chi ci segue in tempo reale e halloween e questo è un po' il nostro speciale che oltre la mia voce a far paura oggi abbiamo un po' di tematiche con il ritorno di un amico Cosimo Massaro bentornato ciao carissimo grazie di cuore per avermi invitato saluto te e tutti coloro che ci guardano ci guarderanno in futuro un abbraccio ai fedelissimi gli abbonati veterani di questa chat e allora entriamo subito nel vivo poiché il mondo là fuori fa un po' paura ma lo fa un po' meno se andiamo ad analizzare quello che sta accadendo partiamo dalla situazione monetaria il mondo è una colonia monetaria ci siamo sentiti mi hai mandato delle tematiche di un articolo e noi partiremo di lì perché facciamo una panoramica di che cosa sta accadendo nel mondo e poi lo colleghiamo al petrol dollaro all'euro all'ucraina alla russia la situazione un po' attuale al mondo che ci aspetta a te Cosimo niente questo in pratica che sta accadendo in questo periodo storico epocale apocalittico come dico sempre comunque è la caduta di questo ultimo impero di cui ho scritto anche un romanzo il secondo romanzo la caduta dell'ultimo impero questo impero si riferisce a quell'impero della moneta debito che nasce nel 1694 nascita della moneta debito nasce della banca di inghilterra da quel momento in poi tutto il mondo è diventato una colonia monetaria è diventata appunto di questa moneta debito che nasce poi con le banche centrali che si sono istituzionalizzate nei nei vari stati nei vari governi in seguito con la caduta anche delle case regnanti di stampo soprattutto cattolico soprattutto in europa diciamo tutto il mondo è diventata una colonia monetaria beh c'è da dire che c'è stato sempre un collegamento con loro poi con questa moneta emessa a debito ma se prendiamo anche per esempio l'unione d'italia il regno delle due sicilie era un regno dove utilizzava una moneta realmente d'oro tutta d'oro o una moneta d'argento mentre i savoia letteralmente indebitati con i rossil utilizzavano appunto il sistema di moneta debito il sistema di moneta non coperta ad esempio tutta da oro tre lire all'epoca erano su tre lire una sola era coperta da oro e niente vennero a conquistare il sud sud italia tenendo presente che il regno di sicilia era il regno più ricco rispetto a tutti gli altri regni messi assieme possedeva tanto oro possedeva tantissima ricchezza ma per tantissimi primati era la terza flotta navale dopo inghilterra francia poi c'era quella del regno di sicilia cioè non era un regno così degradato come ci hanno voluto far credere la storia è tutta da riscrivere il primo la prima ferrovia è stata fatta a napoli portici per dire in italia immaginate un po quindi diciamo è stata una tappa di questo imperialismo quindi per arrivare ad oggi dobbiamo elencare almeno quelle tappe fondamentali tipo dopo la seconda guerra mondiale stavamo verso la fine dopo la rivoluzione industriale la prima la seconda i mercati si erano allargati la scoperta del petrolio l'aviazione ieri cioè i commerci come dire si erano allargati a dismisura quella moneta semplicemente solo attaccata a una moneta solo d'oro non sarebbe bastata per riuscire a gestire tutti gli enormi scambi commerciali che si stavano amplificando nel novecento quindi dopo la seconda guerra mondiale si decise cosa con gli accordi di breton bus si decise che l'unica moneta al mondo che poteva essere convertita in oro dovesse essere il dollaro a quel punto gli stati uniti d'america avrebbero potuto stampare una certa quantità di dollari in virtù delle riserve aure che stavano a fort nox però da quella data fino al millenovecentosettantuno gli stati uniti d'america stamparono più dollari che giornali è come se avessero infestato infestato il pianeta di assegno a vuoto nel senso che tutti quei dollari stampati non erano realmente coperti tutti da oro se ne accorse qualcuno che c'era una grossa e una colossale tuffa il primo ad accorgersene fu il presidente francese de gaulle che incominciò a cambiare enormi quantità di dollari li portò con ieri li portò a fort nox per farseli convertire in oro se tutti avessero fatto la stessa cosa loro di riferimento non c'era e quindi si sarebbe scoperta la truffa a quel punto richard nixon il 15 agosto del 1971 decretò in diretta mondiale la fine degli accordi breton bus cioè da quel momento in poi mostrando un biglietto verde disse da oggi se ci credete loro e questo c'è un pezzo di carta senza nessuna copertura aurea senza nessuna ricchezza che lo rappresenti dietro nasce la moneta fiat una moneta come dire a corso legale a corso forzoso subito dopo e poi interrompiamo un attimo questa prima parte nel 1973 quindi qualche anno dopo fu ancorato il dollaro al petrolio naccono degli accordi tra gli stati uniti d'america quindi la federa reserve gli usurai l'usurocrazia chiamiamola così con l'arabbia saudita in pratica cosa stabilivano questi accordi che gli eserciti l'esercito americano avrebbe difeso l'arabbia saudita da qualsiasi attacco avrebbe renduto anche armi all'arabbia saudita però in cambio avrebbero come dire dovuto vendere il petrolio solo ed esclusivamente in dollari quindi qualsiasi altra valuta mondiale che esisteva ed esiste ancora tuttora salvo oggi che stanno cambiando le cose però per dire anche quando avevamo la lira per poter comprare il petrolio noi dovevamo necessariamente prima convertire la lira in dollari e poi con il dollaro eventualmente acquistare il petrolio da lì è nata anche l'egemonia del petrodollaro cioè quel dollaro con cui si poteva acquistare il petrolio e quindi quel signoraggio planetario distribuito in tutto il mondo che poi si collega tanto con quello che stiamo vivendo e questi discorsi vanno anche collegati invece all'attualità e a quello che accade per esempio con il gas in rubli quindi parliamo poi anche di un enorme divisione mondiale poiché c'è il fronte occidentale che ci hanno insegnato o hanno provato a insegnarci essere l'unico esistente l'unico possibile al mondo e che tutti gli altri sbagliano e hanno bisogno di democrazia forzata così arriviamo un po' a questa inflazione questo volersi disfare a tutti i costi dei dollari e degli euro che stiamo vivendo in questi mesi allora in effetti quello che sta accadendo in questo periodo in questi mesi in questi anni comunque principalmente va beh io parto sempre dal mondo dello spirituale ora tralasciando tutto quel discorso perché la battaglia terrena si manifesta prima sul piano spirituale e poi in secondo tempo si manifesta sul piano terreno però quell'intermezzo quella comunicazione che c'è tra il mondo spirituale quello materiale e il collegamento è proprio la moneta non a caso io scrissi il primo romanzo la moneta di satana c'è la moneta di satana nel senso che è il segno meno c'è il segno del debito quel segno negativo che ci indebita tutti questo strumento è molto potente chi ha il potere di emettere moneta ha il potere di comprare tutto e tutti in effetti quindi sul piano eh di della geopolitica internazionale lo scontro primario prima che essere militare è principalmente monetario appunto monetario e culturale come dire dopo le denunce che ha fatto varie volte il presidente putin della federazione russa dicendo e denunciando che il mondo unipolare ormai è finito e si va verso il mondo multipolare multipolare il presidente putin si riferisce proprio a questo c'è quell'egemonia del dollaro è finita fatevene una ragione non a caso poi è nato il brics eh come dire una confederazione di altri stati che stanno cercando ulteriore strade di pagamento e di scambi commerciali dove stanno valutando anche un paniere comune dove stanno incominciando ad utilizzare come dire eh e a ideare un'ulteriore moneta che faccia da collegamento tra quest'ulteriore economia a livello planetario che sta nascendo tenendo presente che oggi si stanno facendo gli scambi tra le varie monete convertendosene no però devono velocizzare il processo di commercializzazione quindi che cosa significa questo che ad esempio gli usurai cioè l'usurocrazia che come definisco sempre io oltre ad avere la loro moneta debito che hanno infestato il mondo conquistando tutti i popoli del mondo attraverso il debito avevano monopolizzato oppure il come dire la eh il tessuto eh la rete di comunicazione del denaro questa rete di comunicazione del denaro tra un paese e l'altro è rappresentata appunto dal circuito swift cioè quello che avevano bloccato in effetti a Putin al presidente eh della Russia e a tutta la confederazione russa cioè cosa significa questo perché ora dobbiamo spiegare anche chi ci ascolta che cos'è il circuito swift faccio un esempio immagina un pochettino che tu hai il tuo conto corrente con il denaro che è tuo e poi ci stanno tutti i rubinetti come dire tutti i conti correnti di altre persone che volendo mandare il tuo denaro agli altri conti correnti devi farlo passare attraverso un canale perché non è che puoi portare il tuo denaro in America se devi fare un pagamento vai con la nave glielo porti eh con la nave o con gli aerei tu lo spedisci tramite un bonifico attraverso il circuito swift l'esempio banale che faccio per far capire questo contesto è quale quello di essere possessori dell'acqua magari noi siamo possessori dell'acqua di un lago di un fiume poi abbiamo i rubinetti di casa nostra che sono nostri però tra l'acqua e il rubinetti di casa c'è una tubatura un impianto idrico ecco questo impianto idrico non è nostro per dire magari è di un Rothschild e che ti dice tu vuoi va bene l'acqua è tua il rubinetto di casa è tua ma l'impianto che poi collega il lago al rubinetto di casa è mio quindi se vuoi che ti arrivi l'acqua al tuo rubinetto di casa devi fare quello che ti dico io se non ti chiude il rubinetto questo stesso esempio vale per chiude quando si vengono chiusi come dire i conti correnti del circuito swift ti vengono chiusi conti c'è ti viene chiuso quel canale di comunicazione del denaro stesso metodo utilizzarono con benedetto sedicesimo quando lo costrinsero alle dimissioni dopo tre giorni che il benedetto sedicesimo si dimise riaprirono i conti swift del dello ior della banca del vaticano perché se no lo ior non poteva più comprare e vendere non poteva spedire più denaro in america in calabria oppure sotto il bancomat di casa sua certo all'epoca benedetto sedicesimo non era certo sicuramente il presidente puttini che in realtà in questi anni si era già preparato alla battaglia economico monetaria quando gli hanno chiuso il circuito swift e lui già economicamente monetariamente si era preparato a questa guerra tant'è che la sta vincendo su tutti i piani aveva aperto gli scambi commerciali con la cina aveva aperto gli scambi commerciali con l'india poi fa parte il paese fondatore del brics quindi come dire ha mantenuto botta anche sul piano monetario interrompo un attimino anche qui e poi approfondiamo magari con qualche altra domanda così approfondiamo questo altro lato se lo faccio un monologo no ecco è interessantissima questa cosa dello swift poiché anche qui senza troppo mistero stai nominando anche quelle famiglie che da sempre controllano quindi i mandriani poiché come hai detto tu è chiaro che è una falla del sistema è chiaro che chi comanda realmente è il possessore di una rete che in qualunque momento con un tasto può mettere in ginocchio qualsiasi regnante qualsiasi politico qualsiasi persona che abbia a che fare con la democrazia quindi in realtà la democrazia è finta i governatori sono finti chi sono i veri padroni assolutamente sì nel momento in cui il sistema usurocratico domina attraverso la moneta domina attraverso i debiti e non esiste una vera democrazia in effetti il termine che uso sempre io e quello preso in prestito da zero pound che l'usurocrazia c'è ecco spiegato ancora meglio con questa precisazione che fatto domina l'usurocrazia non la democrazia da questo punto di vista a continuando il discorso che stavamo facendo prima cosa è accaduto quando hanno bloccato il circuito swift a alla russia alla confederazione russa raccontiamo un po la vittoria fino a un certo punto che ancora sta procedendo del presidente putin nei confronti dell'occidente che ha fatto andare su tutte le furie poi occidentali poi tengo a precisare una cosa quando parliamo di occidente voglio farla questa precisazione questo non è il mio occidente perché questo è l'occidente dell'usurocrazia l'occidente di black rock di vanguard l'occidente della moneta debito delle multinazionali io tengo sempre a precisare che questo non è il nostro occidente il nostro occidente quello di matrice greco romana e cristiana va bene puoi essere anche ateo per i valori che abbiamo fondanti sono questi tutto il resto nasce dall'usurocrazia anche i cambiamenti di filosofia questo è un discorso molto ampio da fare che poi magari se ti va gianluca allargheremo magari con una puntata ad hoc quindi ricordiamoci che questo non è il nostro vero occidente torniamo anche perché poi putin in una sua denuncia proprio palese in un suo intervento disse che effettivamente questo attuale occidente è dominato da una setta satanica se vogliamo ok i padroni del denaro stanno portando avanti culture avverranti che stanno destrutturando tutti i nostri veri profondi valori ritornando al presidente putin quando gli è stato imposto l'embargo diciamo le sanzioni io ho scritto immediatamente un articolo e disse queste qua ci torneranno indietro come un boomerang in mezzo ai denti tanto è vero oggi stiamo pagando per tutto quello che abbiamo fatto la guerra sta portando solo benefici ad alti e grandi finanziatori e i globalisti vogliono in tutti i modi la guerra perché non gli sta rimanendo nient'altro perché che cosa è accaduto anche a livello monetario nel momento in cui c'è stato l'attacco al rublo e c'è stato l'attacco all'economia russa c'è stato come dire un abbassamento di tutte le azioni del mondo russo a quel punto a quel punto putin che ha fatto strategicamente ha ricomprato tutte le azioni che stavano vendendo anche un po se vogliamo tra virgolette gli stupidi del mondo dell'azionariato occidentale nel senso se stanno perdendo vendono 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 quindi anche azioni che erano in mano a black rock per dire perché poi vedi il sistema è anche stupido di per sé con l'intelligenza a volte con gli algoritmi i giochi di borsa lui ha ricomprato tutto ha riportato gli asse strategici a livello nazionale quando ha riportato a livello nazionale gli asse strategici tipo il gas il petrolio e tutto il resto se ne uscito giustamente perché la guerra andava avanti bene se oggi volete il gas me lo dovete comprare i rubli ecco quella è stata la goccia che ha fatto andare su tutte le furie globalisti non è possibile fare una cosa del genere i contratti sono stati scritti stipulati in dollari e in euro e quindi ce li devi pagare in dollari e in euro e lui ha detto ma scusate mi state facendo la guerra e io mo ve li devo pagare se voi volete il gas me lo dovete pagare i rubli poi ci fu la mitica telefonata che fece il primo della classe no il drago il draghistan il quindi mario draghi e disse ma ho parlato un'ora con putin non ho capito bene che cosa ha detto quando ha riferito a livello nazionale la supermercata con lì è caduta la maschera della stampa che lo dipingeva come un fuoriclasse ma era semplicemente ma no ma la cosa proprio ridicola io disse mi sembrava non riuscivo a capire in quel momento se stavo vedendo crozza oppure era il draghi vero guarda perché fu talmente ridicolo come io non ho capito cosa di putin diceva una cosa semplicissima mi volete pagare in euro o in dollari fatelo pure ma li versate nelle mie banche non li versate magari nelle filiali europee o statunitensi che ne so dove poi mi avete chiuso il circuito swift e i soldi non arrivano alle mie banche era talmente se c'è una figuraccia che hanno fatto allora sono andati ulteriormente su tutte le purie fatto sta che comunque pure legni ha dovuto continuare a comprare e ancora continuano a comprare il gas per dire in rubli però la cosa bella qual è stata pure perché i rubli dove si compravano presso la banca centrale russa quindi già nell'acquisto dei rubli si dovevano pagare ora questo è un dato vecchio ora non so a quanto stiamo però con un 20 per cento di interesse quindi già stava guadagnando sugli interessi del rubro e in più stava guadagnando sulla vendita del gas e ora dobbiamo arrivare un po alla speculazione di oggi perché fondamentalmente il gas russo è stato venduto sempre lo stesso costo oggi ci arrivano bollette stratosferiche che non dipende dalla federazione russa ma dipende dalla speculazione della borsa di amsterdam dove lì secondo degli algoritmi siccome vedi questa è a intelligenza artificiale siccome si prevede che la guerra aumenterà magari dove il gas che ne so magari sarà scarso in automatico aumentano i prezzi quindi anche se il gas è stato pagato a un basso costo no in virtù della borsa di amsterdam le aziende si stanno adeguando ai prezzi stabiliti lì facendo dei guadagni stratosferici quindi c'è gente che attraverso la guerra sta facendo guadagni stratosferici attraverso la vendita delle armi e attraverso la vendita delle materie prime e chi ci sta pagando sono le aziende le aziende le famiglie e se vogliamo questo va anche come dire se a seguire quel punto programmatico del club dei 30 i 30 più potenti banchieri del mondo di cui fa parte anche draghi quando c'era il punto programmatico specifico che diceva la distruzione creativa di tutta la piccola media imprese italiana ecco da questo punto di vista se vogliamo a pensare male si fa peccato ma quasi semplici si azzecca come dice diceva il mitico andreotti in questo caso devo dire che forse sono stati veramente fantasiosi a riuscire a distruggere tutta la nostra economia attraverso questo macchin genio perché obiettivamente queste bollette sono impossibili da pagare quindi un'infinità di aziende ulteriormente chiuderanno tutto il made in italy se ne andrà a rotoli se continuiamo così tra l'altro mi viene in mente anche per chi aveva occhi e orecchie per intendere e non si fidava dei telegiornali classici c'era tutto un mondo per esempio di conferenze stampa dove pubblicamente quindi senza cercare l'infiltrato o chi avesse notizie segrete putin era erano mesi per non dire anni che pubblicamente diceva ma io non capisco cosa ci fate con questo gas io continuo a darvelo e ve ne sto dando anche di più voi lo stipate lo rivendete cosa state combinando con questo gas un anno dopo ci sarebbero cominciate le operazioni speciali di febbraio ma è già da prima che la speculazione ha avuto un attacco clamoroso nei confronti di quella che la popolazione europea così come anche la speculazione sul rublo che volevano lasciare intendere che di lì a poco non sarebbe valso nulla e con questa manovra in realtà chi non solo si è fidato e non ha ceduto i rubli ma chi andava comprando io mi ricordo in febbraio c'erano tanti economisti o persone che lavorano nella finanza nella speculazione che giravano in lungo e largo per acquistare tutti i rubli che che trovavano poiché effettivamente di lì a un mese è stata una manovra con cui hanno guadagnato tanto quindi chi tratta nella finanza e da tempo che ha capito che l'unione europea gli stati uniti sono su loro del baratro e gli scommettono contro tra virgolette allora in effetti sta dicendo delle cose sacrosanti che dobbiamo specificare meglio ora in effetti poi la federazione russa quindi putin ha ancorato il rublo a dei beni reali cioè ha ancorato il rublo coperto da gas petrolio oro cioè beni reali questo è molto importante perché a differenza ad esempio del dollaro che l'unico aggancio che ha oggi è il petrolio quindi il petrodollaro ma tutte le altre monete compresa la sterlina compreso l'euro non hanno nulla dietro quindi sono ancorate al dollaro che cosa farà accadere principalmente il dollaro che poi è il cuore di quest'articolo che ho scritto sulla battaglia monetaria e appunto quale che già tempo addietro l'arabbia saudita aveva fatto richiesta ufficiale di entrare nel brics ecco oggi sembrerebbe che l'arabbia saudita sia entrata nel brics questa cosa è stata accettata e a questo punto che cosa accadrà che incomincerà ad acquistare per dire armi se vogliamo dalla russia scambierà il petrolio in guan con il rublo con altre valute e abbandonerà il dollaro quindi questo aggancio ancorato forte tra il petrolio e il dollaro decade nel momento in cui decade questo aggancio forte il petrodollaro beh al dollaro non gli rimane più niente dietro come copertura motivo per cui gli investitori internazionali stanno cercando come dicevi anche tu prima di fare man bassa di rubli che è difficile pure acquistarli e il rublo in continua scesa perché ha come dire una sicurezza maggiore rispetto al dollaro perché c'è i beni reali dietro che lo garantiscono cioè cosa significa avere i beni reali dietro tu magari hai dei rubli vuoi cambiarli vai ti compri gas e poi ti vendi il gas vai ti compri petrolio e ti vendi il petrolio ecco il dollaro non ha nessun riferimento dietro quindi anche gli investitori internazionali stanno facendo crollare se vogliamo il dollaro e stanno facendo alzare valute come il il rublo ecco perché il mondo unipolare effettivamente è finito io sono convinto anche di questo e i globalisti l'unica strada che gli rimasta è quella di fare una guerra a livello planetario cioè l'unica loro soluzione è quella della guerra stanno spingendo in tutti i modi stanno cercando in tutti i modi di provocare putin addirittura per una guerra atomica che comunque sono convinto che non non pigerà mai quel pulsante per primo perché poi si metterebbe il sa benissimo che si metterebbe dal lato del toto se rimarremo vivi se qualcuno rimarrà vivo e quindi non lo vuole fare e allora stanno cercando in tutti i modi di continuare la guerra su allargando il conflitto eh il più il più possibile auguriamoci che questa cosa non accada fra l'altro facciamo una precisazione l'abbiamo nominato il BRICS eh molti lo sapranno ma lo rispieghiamo è un acronimo eh rappresenta che andrebbe eh ulteriormente allargato poiché BRICS era all'origine sono le iniziali dei paesi che hanno fondato questo nuovo sistema monetario sono Brasile Russia India India e Sudafrica eh a cui vanno aggiunti eh Arabia Saudita Argentina e la lista di chi aspetta di entrare in questo BRICS si allunga sempre di più io vedo anacronistica una una guerra nucleare tanto paventata dai media ma proprio perché lo dicono i media in realtà se vuoi accenniamo anche come l'industria delle armi sia l'ultima rimasta agganciata ai dollari ma anche come eh per esempio Israele è da tempo che si sta liberando di euro e di e di dollari dalle proprie riserve nelle proprie banche quindi è un cambio è sicuramente inevitabile sono d'accordo con te poiché con una dichiarazione ufficiale di guerra noi passeremo per per disfattisti no? Eh si si dice per coloro che in realtà tramano contro il proprio paese ha affatto è esattamente l'opposto perché io sposo la tua tesi che noi siamo per il nostro occidente non per il loro non per quello che hanno voluto far passare come occidente che ancora con le varie manine la CIA i servizi inglesi continuano ad andare a spadroneggiare un po' in giro per il mondo basti vedere per esempio cosa stanno cercando di fare in Iran cosa hanno fatto eh ieri perché ci segue in diretta con le lezioni in Brasile quindi è palese il loro voler in qualche modo buttarla in caos perché solo col caos in realtà hanno una chance di confondere un po' le acque come un bimbo che sta per perdere un gioco e butta tutto in vacca ecco questo è esattamente il ritratto di chi viene osannato dalla stampa italiana dei telegiornali dalla narrativa politicamente corretta vogliono buttarlo in vacca per evitare un tracollo allora dici bene effetti mi fa piacere che stiamo allineati su questo perché questo sarebbe il diciamo quell'occidente governato dal deep state cioè quello stato profondo che poi fondamentalmente eh è sempre esistito no queste trame eh che poi magari a distanza di cento anni centocinquant'anni magari si scoprono come il fatto che ho raccontato prima brevemente del regno della Sicilia della conquista del regno della Sicilia quindi dobbiamo capire che ci stanno sempre delle trame sottostanti la vera storia come diceva Onorea de Balzac la vera storia una storia vergognosa e che non è quella che viene insegnata ad usumi del film da questo punto di vista ora dobbiamo valutare la realtà dei fatti come sta accadendo anche l'attacco che ha subito ultimamente la Russia che sembra che ci siano come hanno denunciato eh i russi stessi eh lo zampino della perfida Albione dell'Inghilterra no? Eh di quell'Inghilterra che sta dietro sempre tutte queste trame anche perché dobbiamo sapere che comunque l'Inghilterra ehm non in quanto inglesi ecco anche lì perché una cosa sono i popoli una cosa sono gli americani il popolo americano una cosa sempre poi quel deep state che ha i suoi tentacoli in tutto questo occidente e non solo in occidente e c'è da dire che ehm sembra che abbiano agevolato abbiano aiutato l'attacco sia stato fatto alle navi russe eh con l'aiuto dell'Inghilterra ora se questa cosa viene accertata cioè qua significa che siamo entrati proprio letteralmente in guerra perché poi da dove sono partite ora eh queste eh questi attacchi sono partiti magari dall'Italia da qualche base nato che si trova in Italia non sappiamo dobbiamo valutare tutte queste cose quindi vedi stiamo sempre entrando un gradino alla volta un gradino alla volta sempre di più in un conflitto che rischieremo eh come dire di trovarci tutti dentro ora valutiamo bene questa situazione non facciamoci mai prendere la paura quello che parlavamo prima perché il primo messaggio che noi dobbiamo lanciare anche come dire come informazione vera secondo me ma nemmeno alternativa perché definiamoci un'informazione vera anche secondo i nostri limiti però almeno siamo in buona fede noi anche se a volte possiamo anche sbagliare però sicuramente siamo in buona fede e non siamo pagati da nessuno per dire le cose che diciamo trasmettiamo quel messaggio che eh non lasciamoci prendere dalle paure perché il male lavora attraverso la paura le emozioni della paura quindi in virtù di qualsiasi cosa che accada rimaniamo sereni rimaniamo tranquilli rimaniamo centrati e come si dice rimaniamo sempre nella luce per non lasciarci prendere da quei sentimenti della paura è fondamentale lo dico a tutti ora paure bollette da pagare magari c'ho i soldi eh sul conto corrente oddio che succederà con i soldi c'ho sul conto corrente li perderemo tutti state sereni cercate di di vivere con serenità anche questi stati d'animo perché se no presi dal panico non servirà a nulla cosa consigliamo diamo dei consigli per dire potrà crollare il sistema potrà crollare sappiamo quando non lo sappiamo cercate di fare investimenti ad esempio anche in oro fisico acquistate oro fisico lingottini d'oro potrebbe essere un buon investimento l'unico investimento che io mi consiglio consiglio di dare quando faccio solo una premessa si parla di investimenti quando si hanno delle cifre di cui ci si può dimenticare per almeno anni quindi non vuol dire che chi ha mille euro sul conto va a cambiarlo in oro perché bravissimo bravissimo aver fatto questa precisazione chi ha dei soldi depositati che sa che non li deve usare può farlo poi se ci stanno quei 5 mila euro che ti servono per la routine quotidiana è inutile che stai a cambiare non lasciatevi prendere al panico e si troveranno sempre le soluzioni poi altra cosa fondamentale vedi che è un passaggio che dovevo anche sottolineare perché ci collega all'attualità perché parliamo sempre poi di denaro e di guerra monetaria perché la guerra monetaria non è solo a livello di geopolitica internazionale ma la viviamo quotidianamente noi nella nostra quotidianità e la guerra monetaria esplicitamente fatta su tutti i piani che cosa voglio dire con questo quando abbiamo detto ad esempio chiudere il circuito swift ti tiene fuori da dal commercio e ti annulla annulla per dire uno stato intero che non può più comprare non può più vendere la stessa cosa accadrà se noi faremo noi cioè se loro faranno sparire il denaro contante c'è questa è una cosa da capire dobbiamo fare in tutti i modi di evitare che il denaro contante scompaglia quindi non fate acquisti con carte di credito non fate acquisti con pago banco andate prelevate dal dallo sportello bancario andate a pagare i contanti perché il contante e libertà e e voler poter spendere poter spendere il denaro come quando vuoi tu senza che nessuno ti controlli perché nei momenti in cui il denaro sarà solamente elettronico come hanno chiuso il circuito swift alla russia chiuderà nel tuo conto corrente in un batter d'occhio con un pigiando su un bottone tu non potrai più comprare vendere sarai totalmente succube ecco perché è fondamentale che il denaro contante rimanga nella territorialità poi un'altra cosa che spiego sempre quando si paga con una banconota da 100 euro quella banconota gira verso un altro operatore poi verso un altro un commerciante un artigiano rimane sempre una banconota da 100 euro che continua a girare nell'economia reale questa cosa è importante da capire perché la moneta è un bene a valore ripetuto si rigenera ad ogni scambio significa che per ogni scambio che tu hai effettuato si è generato una ricchezza qualcuno ha prodotto qualcosa e tu gli hai dato in cambio la banconota da 100 euro che rimane sempre da 100 euro nel momento in cui paghiamo con un pago banco con una carta di credito il primo passaggio con te lo faccio di 100 euro tu il secondo passaggio non lo puoi fare più di 100 euro lo farai di 93 euro oppure 97 euro perché pagato 3 euro di commissioni poi l'ulteriore passaggio è 94 euro poi 91 euro 3 4 5 6 10 30 passaggi quella banconota da 100 euro che non è banconota è solo virtuale è scomparsa dall'economia reale ed è andata in economia tecnofinanziaria un'economia totalmente scollegata con l'economia reale ecco perché dobbiamo mantenere il più possibile il denaro contante nella territorialità perché ci dobbiamo scombiare le merci fra di noi il contante libertà poi in un mondo libero se io ho lavorato e ho lavorato per avere 10.000 euro io li posso e li devo spendere come cavolo mi pare a me se li voglio spendere in contanti li spendo in contanti se li voglio pagare con in maniera virtuale li pago in maniera virtuale nessuno mi deve impedire di non utilizzare il denaro contante che a parer mio non ci dovrebbe essere nessun limite limite al denaro contante anche perché se rimaniamo nel circuito euro parlando di euro nel trattato di maxit nel trattato di lisbona si parla di moneta legale l'unica moneta legale circolante nel circuito euro sono le banconote cartacee nemmeno quella ban cioè quella moneta creata dal sistema bancario commerciale quella virtuale quindi è l'unica moneta legale anche secondo i trattati quindi banconote di carta e monetine metalliche che è prerogativa dello stato dove sulle monetine metalliche da un euro da due da cento di centesimi c'è scritto r i repubblica italiana lì il signoraggio lo incassiamo noi solo che costa più coniarle in virtù a differenza del valore nominale una banconota da 200 euro invece il signoraggio bancario per conto della bce è enorme quindi immaginate voi quanto guadagno fanno pure attraverso il signoraggio bancario la bce però rimane sempre il fatto che la moneta legale è quella delle banconote fra l'altro anche lì vi invito anche a parlare con la gente perché bisogna un po sfatare questo mito che denaro contante è solo evasione fiscale solo criminalità il denaro contante il male e quindi vedi queste persone che ormai girano convinte di questa cosa dopo che hanno anche tentato di approfittare della situazione da loro creata dicendo che il denaro contante porta le malattie e quindi è il male quindi di questo un giorno questo un giorno quando lo racconteremo le persone non ci crederanno ma c'è qualcuno che veramente non voleva più toccare il denaro perché diceva che portasse le malattie quindi cerchiamo almeno di rendergli le cose un po più complesse e che si debbano impegnare un po di più perché se no veramente serviamo su un piatto d'argento a questi politicamente corretti radical chic walk come si dice in america che sono veramente il male non a caso putin stesso il patriarca krillin raccontano proprio del della guerra contro il male ai dici bene io c'è un altro passaggio che sottolineo sempre nelle mie conferenze nei seminari quando è arrivato putin al potere in russia putin non arriva così a caso cioè putin è stata la manifestazione di un sistema dove ha espresso putin come c'è stato per un periodo dove è riuscito arrivare al potere trump dall'altra parte che è stata l'espressione ultima come dire di quel patriottismo che già si muoveva al di sotto diciamo del potere del dp state negli stati uniti d'america e la prima cosa che ha fatto il presidente putin quando è arrivato al potere che ha messo da parte jelsin il presidente filo globalista quello che aveva svenduto tutta la russia l'ubriacone perché si sapeva che erano miracone un uomo etero diretto dall'esterno o dalle loro dalla vera oligarchia interna russa che stavano facendo affari d'oro con i globalisti no io tengo a precisare sempre una cosa che ha e la ribadisco sempre perché mi ascolta magari sembrerò pure noioso però sai intervenendo in tantissimi programmi come vostri devi ripetere sempre le cose perché tutti voi fate un grande network allora non abbiamo la possibilità noi come te come tanti altri di andare per dire in un programma televisivo e palla milioni di persone quindi ci tocca ripetere sempre queste cose per arrivare e allargare sempre di più il nostro canale di informazione come rete questa cosa la devo dire sempre come le dico tante altre la prima cosa che ha fatto il presidente putin è stata quella di rimettere la religione cristiana ortodossa religione di stato patria del comunismo ateo cioè rendiamoci conto la patria del comunismo ateo ha rimesso la religione cristiana ortodossa religione di stato questo cosa voglio dire al indipendentemente dal fatto che non tutti saranno cristiani anche in russia però lui ha dato un segnale fortissimo quale quello che ribadisce sempre che la matrice culturale russa è greco romana e cristiana chiaro c'è la russia quando parliamo di russa e parliamo di popolo russo non parliamo della cina non parliamo di quell'oriente parliamo come dire di quella base culturale che ha le radici nella grecità nel nel pensiero filosofico greco nel pensiero romano nel diritto romano anche e in duemila anni di valore cristiani perché lì è nata c'è quando l'impero romano si divise si divise impero romano d'oriente e impero romano d'occidente e lui ribadisce sempre che le radici culturali dei russi sono queste ecco perché sono nostri fratelli anche sono nostri fratelli la cultura russa è molto vicina alla nostra abbiamo avuto sempre enormi enormi collaborazioni c'è i russi ad esempio stravedono per l'italia per tutto ciò che italianità per tutta la nostra storia la nostra cultura perché la russia senza quel vero occidente sarebbe nulla si sentirebbe come dire senza avere la radice che è realmente collegata al nostro occidente ecco perché in tutti i modi vuole cerca la pace però voglio dire questa pace non può avvenire se in occidente si è radicato quel potere del male che sta cercando la distruzione perché vogliono il globalismo totale perché vogliono il nuovo ordine mondiale perché vogliono il transumanesimo il postumanesimo filosofia berranti il genderismo ecco perché come stavi dicendo tu questa battaglia che poi va su quei piani è sostenuta anche dal patriarca chiril e dicono testualmente che stanno portando il male su tutta la terra chi governa in questo momento attraverso il deep state l'occidente ma non potranno durare in eterno ripeto a parer mio stanno le battute finali di questo impero bisognerebbe poi parlarne magari una puntata dedicata di come le varie religioni trattano proprio il denaro e soprattutto il denaro a prestito perché c'è chi lo mette come dogma c'è chi lo vieta assolutamente di creare un profitto dall'usura quindi anche vedere quanto in realtà il denaro sia intrinseco alle religioni stesse al mondo spirituale già luca dice una cosa bellissima sarebbe bellissimo fare una puntata d'occhio su questo perché io nel mio libro su rocazia ne parlo di questo e ne parlo anche in scontro globale cioè dobbiamo notare anche l'enorme differenza che c'è tra cattolicesimo e mondo anglicano con la rivoluzione anglicana e anche se vogliamo con l'islam e perché le differenze sono enormi tralasciando ora un concetto però perché oggi l'oligarchia usurocratica comprende tutte le finanze la finanza anglicana quella sionista quella cattolica quella islamica cioè quindi oggi questa usurocrazia ha raggruppato come dire il peggio che vuole far affare di tutte le culture se tu prendi un fondo di investimento come black rock all'interno di black rock ci stanno denari che arrivano dal mondo islamico dal mondo sionista dal mondo cattolico e dal mondo per dire anche anglosassone quindi oggi ha perso un po senso questa cosa perché tutte le culture tutte le religioni sono immischiate in questo male grande male ma noi dobbiamo andare invece agli albori alle radici capire poi dove è nato dove c'è stata una scissione e io ne faccio vedere uno in particolar modo che poi magari una puntata doc la possiamo evidenziare con la rivoluzione anglicana che cosa è accaduto poi sarebbe molto bello a fare una puntata del genere quindi commentate anche se vi farebbe piacere così abbiamo anche un po il polso della situazione il termometro di chi ci segue e arriviamo poi anche a quello che sta accadendo in questi giorni quindi il crollo in borsa seppur momentaneo ma simultaneo di amazon di google di meta quindi che cosa sta accadendo così ci colleghiamo anche un po al discorso speculativo del del mercato in borsa non che poi ci sono delle agenzie di rating private che riescono in qualche modo a falsare i giochi tenendo in piedi un gioco che magari non starebbe più in piedi da tempo allora sicuramente tutto questo è provocato dal crollo del sistema usurocratico ma è che è cominciato già da tanti anni è cominciato nel momento in cui non si sono tenuti più i freni a bada c'è quell'economia che bene o male prima era anche in parte di stato in parte voglio dire era commerciale c'era una via di mezzo da dopo gli anni 90 con la globalizzazione e il neoliberismo che diceva che il dio mercato avrebbe regolamentato tutto come dire si è dato spazio a questo allargamento dell'ultradebito quindi un debito su un debito un debito su un debito fino ad arrivare poi quando è stato nel 2008 quel conosco colossale crollo dei muti sopraino lì che cosa è accaduto un ulteriore come dire ingrossamento di quella super bolla speculativa che è stata alimentata da che cosa per mantenere in piedi tutto il sistema bancario globale delle più grosse banche perché alcune le hanno fatte fallire quelle che potevano dovevano fallire tutte le piccole banche tutte le piccole banche anche di credito cooperative se le sono fagocitate tutte per mantenere in piedi la grossa speculazione perché poniamo l'esempio del quanta tb sing che draghi emetteva con con la bce ad esempio anche la federal reserve tutte le banche centrali del mondo per mantenere in piedi il sistema turbo capitalista dell'usurocrazia per mantenere in piedi le grosse banche per evitare che crollasse il sistema hanno puntato pompato quantità enorme enorme di denaro creato dal nulla sempre a debito tant'è vero che di quel quanta diviso non solo euro arrivava all'economia reale tutto serviva a mantenere in piedi l'economia tecnofinanziaria quindi quella bolla speculativa cresceva sempre di più e ma alla fine quando è arrivata ad essere come dire una massa monetaria 50 volte più grossa rispetto al pil di tutto il pianeta rispetto alla ricchezza reale è normale che deve scoppiare non si può più reggere e gli stessi autori del sistema borsistico e tutto il sistema tecnofinanziario lo sanno benissimo ecco perché poi in questi anni hanno progettato il loro grande reset quel grande reset che deve espropriare le ricchezze dalla povera gente che ha lavorato con il sudore della propria fronte rubargli in qualche modo anche i risparmi e farli andare tutti nell'economia tecnofinanziaria per mantenere in piedi il loro sistema poi diranno col grande reset vi azzereremo i debiti e però vi diranno la casa dicono non hai nulla e sarai felice come recita il motto di del world economic forum ecco siccome tutto questo sistema sta realmente crollando non potrà reggere molto tutto il sistema borsistico verrà dietro ma nel momento in cui crolla quello e crollerà tutto il sistema di debito che che della finanza debito cioè perché parliamoci chiaro chi è che diventa grande solamente chi riesce a ricevere tanti finanziamenti sempre a debito quindi tutte queste come dire anche aziende del settore delle telecomunicazioni della comunicazione web facebook youtube c'è tutto tutto fondamentalmente un grosso debito più grossa è la tua azienda più indebitata è gli stati d'america è una delle più grosse economie del mondo e il più grosso debito pubblico del mondo è chiaro cioè quindi è un sistema a debito vuoi fare soldi indebitati devi essere perennemente indebitato e ma se crolla il sistema del debito crollano tutte le aziende agganciate collegate a questo sistema lo abbiamo visto poi nel lockdown nel senso che interrompendo un flusso di denaro che è un flusso che va sempre a debito sempre con gli interessi a tenere in piedi anche apparentemente un impero ma un impero fondato su una ricchezza che non esiste quindi interrompendo un flusso viene giù tutto ma questo è il piano di una fazione lo abbiamo visto così non preoccupiamo nessuno non sta giocando uno scacchista da solo dall'altra parte c'è un avversario noi in questo caso per come la vedo io siamo un po' i terzi incomodi che devono sperare che tra i due litiganti possano continuare a goderne di libertà e di vita normale ecco non penso ci sia qualcuno che nasce per al solo scopo di difendere la popolazione ognuno ha le sue alle sue carte da giocare per i propri interessi c'è da sperare che da questo scontro noi ne possiamo in qualche modo uscire vincenti ma lasciando intendere e facendo la premessa che nessuno vede nel futuro tu come che scenario vai ipotizzando poiché e quindi la crisi del 29 le man brothers i mutui subprime lo consiglio sempre se volete un po capire tutte queste cose vengono spiegate bene in alcuni film con wall street the big short la grande scommessa quindi gli spiegano esattamente che cos'è il mondo speculativo finanziario senza neanche essere troppo complottisi ti spiegano in mano a che beoti siano le ricchezze di tutti e di quanto in realtà fragile sia questo sistema tu come prevedi uno scenario in cui ci alziamo una mattina e una grande banca è venuta giù e quindi un qualcosa di traumatico e pseudo improvviso o sarà un cambiamento una metamorfosi lenta per cui in realtà magari il sistema cambia e quasi non ci si non ci si accorge allora io non ho la sfera di cristallo per dire come accadrà su questo quindi non posso dare nessuna certezza l'unica cosa di cui sono certo sono certo che crolla il sistema e sta crollando lo dico da anni e ne stiamo vedendo tutte le conseguenze ora da questo punto di vista io quello che dico come messaggio propositivo è quello di prepararsi ai più ai vari scenari possibili cioè cosa significa questo principalmente dobbiamo essere forti come dire rafforzarci spiritualmente a questa battaglia quindi dobbiamo avere una grossa forza interiore dobbiamo essere emanatori di alte frequenze in modo che ci si avvicini come dire a al positivo anche quando la tempesta sembra più buia più forte dobbiamo mantenere come dire il timore dritto e andare avanti per bene senza lasciarsi prendere dalle paure so che non è facile ma questo è un percorso personale che tutti noi possiamo affrontare bisogna prepararsi come dire alla battaglia più dura da questo punto di vista quindi lato personale interiore prepararsi bene allargare i rapporti il più possibile con le persone vicine a noi con le persone che la pensano come noi per prepararsi anche allo scenario peggiore quello di ritornare uno scambio fra di noi chiaro cioè quindi ritornare alla vera umanità perché non ogni male viene per nuocere tante volte noi umanamente dobbiamo acquisire dobbiamo imparare delle cose che a volte abbiamo dato per scontato quindi certe volte queste cose servono a farci crescere anche spiritualmente chiaro ora da un punto di vista anche poi del denaro come dicevi tu prima non abbiate paura se avete quel poco di denaro cercate di mantenerlo se ne avete qualcuno in più fate qualche investimento magari in oro che vi possa dare un'eventuale garanzia in seguito indipendentemente da cosa potrà accadere quindi lo scenario che si potrà prospettare potrà essere quello di un crollo immediato e a quel punto si blocca tutto ci può pure stare però una cosa come dire è sicuramente chi verrà a subire maggiormente una crisi del genere sono coloro che vivono nelle grandi città chi magari vive al sud o vive al nord che magari sta in campagna dove c'è un pezzo di terra dove c'è magari io sono stato sempre in questi in questi due anni sempre in piemonti di nuovo visto posti bellissimi anche in collina dove ci stanno fonti d'acqua c'è di tutto c'è bisogna prepararsi anche agli scenari di questo genere ok dove senza nessuna voglio dire spirito voglio dire di paura e di terrore di quello che potrà accadere e niente semplicemente con strategia prepararsi a questi scenari poi io mi auguro la cosa migliore per noi sarebbe che i globalisti scendono a patti cioè come dire solo che sarà molto difficile che accada questo chiaro quindi però che cosa può accadere e dobbiamo tenere conto anche della geopolitica internazionale ora l'otto novembre avremo le elezioni di medio termine in in america questo è un fatto molto importante se lì prende di nuovo nuovamente il potere è quel lato trampia trampiano no dei dei patrioti immediatamente già incominceranno a cambiare l'atteggiamento anche dell'italia perché l'italia è totalmente una colonia nel momento in cui è caduto trump subito qui il di più stretto ha preso enorme potere anche in italia e quelle politiche guerra fondaglie potranno riequilibrarse quindi io mi auguro che riprenda nel gioco di potere come dire il mondo patriottico in in negli stati uniti d'america e anche putin sta aspettando questo quindi può darsi che ci sia un riequilibrio perché poi ricordiamoci sempre e questo fa parte della battaglia spirituale il mondo e tutto l'universo è in continuo equilibrio tra le varie forze la vera vittoria sta nell'equilibrio sta tra una forza e l'altra perché è così funziona così funziona dobbiamo semplicemente riequilibrare questo mondo questo mondo che ha ora presuppone questa battaglia tra i figli delle tenebre e figli della luce perché l'universo stesso esiste con la contraposizione degli opposti se vogliamo per quanto riguarda l'unione europea e quindi un po il futuro dell'euro sei ottimista si salva si torna ognuno alle proprie monete ci sarà uno scossone ecco se crolla il dollaro e come sembra crollerà in automatico crollerà anche l'euro c'è solo perché il dollaro almeno aveva il petrolio dietro e l'euro non c'è nulla dietro c'è c'è il dollaro c'è quindi crollando il dollaro crolla la sterlina con l'euro crolla anche per dire il franco francese che era diventato un piccolo bene rifuso ultimamente però crolla tutto crolla il sistema della moneta debito da questo punto di vista come dicevi tu noi dovremmo infilarci in mezzo in queste crepe noi dovremmo immediatamente da subito e lo dovrebbero capire la nostra dirigenza che dovremmo emettere una valuta interna che se i trattati non ce lo permettono ora nel momento in cui si dice che facciamo parte del circuito euro e quindi dobbiamo utilizzare l'euro non possiamo utilizzare un altro banco nota la nota del banco banco nota nota del banco la nota del banco oggi è della bce bene ma nei trattati lo dico anche questo sempre fino alla noia lo dico noi potremmo emettere stato note non banconote note di stato quindi una nota te lo sa perché all'interno del trattato di maxi di lisbona non è fatto di vieto agli stati di non poter emettere stato note quindi ciò che non è vietato è consentito certo ci farebbero la guerra in tutti i modi da un punto di vista economia monetaria ma è l'unica strada che dobbiamo percorrere non potremmo continuare a finanziarci a debito quindi una stato note come biglietti di stato a costo legale che fece aldo moro abraham lincoln con green bank oppure con l'ordine esecutivo 11.110 fece kennedy dove c'era scritto stati uniti in america e non quindi stato note emesse dal tesoro non emesse a debito sarebbero del popolo italiano ci potremmo immediatamente finanziare tutta la nostra economia e avere per momentaneamente la doppia circolazione monetaria in euro e in stato note nel momento in cui dovesse crollare l'euro noi avremmo come dire la scialuppa di salvataggio cioè non rimarremmo da un giorno all'altro senza una moneta sangue economico che non ci permette di farci gli scambi l'avremo già internamente non avremo nessun problema è chiaro e allora cosimo tutto ciò di cui abbiamo parlato è spiegato bene un po nei tuoi libri se ti va li elenchiamo allora io consiglio da leggere sempre prima usurocrazia svelata che sta uscendo la nuova edizione best seller perché è stato un enorme successo sono 15 anni di studi su quei libri ho unito tre saggi che cos'è il signoraggio bancario euro disastro e attacco alla civiltà cristiana dove parlo di ingegneria sociale molto con la prefazione il professor meluzzi quindi sta uscendo la nuova edizione l'altro libro che consiglio che è stato a seguire è stato scontro globale la battaglia terrena la battaglia spirituale che completa un po il diciamo quel percorso molto molto importante anche per prepararsi alla battaglia spirituale a livello interiore perché dico sempre che questa battaglia prima che essere sociale è una battaglia individuale soli siamo venuti sulla faccia della terra e soli ce ne andremo quindi dobbiamo tra virgolette allenarci a questa battaglia che io la chiamo battaglia ma alla fine poi è una crescita spirituale no c'è tutto serve a farci crescere io in effetti il nemico non lo chiamo nemico nel libro io lo chiamo l'avversario l'avversario è appunto colui che mette a nudo le tue debolezze se tu sali sul ring io sono messo i arti marziali e sono stato un agonista da ring se io prendevo dei pugni e la colpa non era dell'avversario l'avversario faceva svolgere il suo ruolo la colpa era mio che aveva abbassato la guardia o non avevo coperto bene la mia figura chiaro quindi c'è sempre da crescere noi utilizziamo quello che ci sta accadendo come spinta propositiva a farci crescere spiritualmente ed è fondamentale quindi per chi vuol comprare e mi finanzia perché l'unico come dire canale di finanziamento che ho oramai occupandomi solo di scrittura può contattarmi attraverso il mio blog www.cosionmassaro.com troverà anche il mio numero di telefono e potrà tranquillamente scrivermi un whatsapp e lo spedisco direttamente io con dedica grazie cosimo grazie a tutti voi che ci avete seguito una bella ondata di home in chat a chiusura aspettando promo e sigla e ti aspetto a torino e ci rivediamo presto così grazie di cuore ti faccio una comunicazione verso fine novembre sarò a torino se vogliamo organizzare qualcosa la possiamo organizzare così verrò a trovare tutti gli amici di torino va bene gianluca grazie di cuore nuovamente saluto te e tutti coloro che ci hanno visto un abbraccio grazie a voi buon halloween perché ci ha seguito in live appuntamento alla prossima grazie come scrisse george orwell chi controlla il passato controlla il futuro chi controlla il presente controlla il passato facciamo finta che è il canale youtube ideato e diretto da gianluca lamberti sono quattro i nuovi video ogni settimana il lunedì il mercoledì il venerdì e la domenica alle 21 e 30 in diretta sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione facciamo finta che è presente su ogni social a te basterà seguirci grazie a tutti